Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per la consueta rassegna stampa sportiva che comincia con i quotidiani locali. Andiamo a vedere cosa ci racconta oggi il Messaggero Veneto nelle pagine sportive, in particolare per quanto riguarda la nostra Udinese. Ecco la prima pagina del fascicolo sportivo che apre facendo un primo bilancio di questa preparazione precampionato che sta per chiudersi. Angela, Janto e anche Samir attenti a quei tre, titola il Messaggero. Depol e Fofanà da seguire con attenzione, Terò e Matos tra i vecchi, subito in palla. Questo è il titolo, ma andiamo a vedere anche qualche passaggio di questo articolo nel quale Pietro Oleotto dà un po' i voti ad alcuni bianconeri, ai nuovi, ma come abbiamo visto anche a qualcuno che ha già vestito il bianconero nelle passate stagioni. Allora andiamo a vedere quello che scrive Oleotto di Pegnaranda. Da seguire, dice Oleotto, è il baby d'oro, il giocatore dal grande talento che può innescare l'Udinese e riportare alla ribalta il club bianconero che deve rinverdire la propria fama di trampolino di lancio per i giovani, da Sanchez a Isla, a Samoa, Pereira e Allan. Finora il venezuelano si è visto soltanto a sprazzi, non ha ancora la gamba, deve recuperare la forma migliore dopo gli acciacchi patiti in Coppa America. Insomma, diamogli tempo, ma alle sfuriate che ha piazzato nella ripresa della gara di Feldkirchen, appena entrato da punta centrale, sono promettenti. E poi Angela che torna a vestire il bianconero, tutta sostanza, dice Oleotto, bentornato Gabriele. L'avevamo lasciato nell'estate di tre anni fa, quando aveva scelto lo spazio che gli garantivano il Watford e la Championship per completare il proprio bagaglio tecnico. Non sarà mai una freccia, ma tempismo nei colpi di testa, come dimostrano i suoi gol nelle ultime amichevoli, e piede. Iacchini lo ha provato a destra nel tridente arretrato. Ertò e Vague sono avvertiti. E poi Janto dicono che sia una mezzala o un trequartista, il jolly, dice Oleotto. Per il momento Iacchini lo ha provato a sinistra, mettendolo in competizione con Armero, vecchio mestierante della fascia. Risultato più che convincente. Il ragazzo ha fame e gambe. Samir lo manda a Zico. Il galigno, quando vestiva la maglia del glorioso Flamengo, non aveva mai nascosto l'ammirazione per questo difensore mancino di 21 anni. Lui, dopo una partenza lenta, complice anche la stazza, ha fatto capire che si fa rispettare sia nel gioco aereo, sia nell'uno contro uno. Occhio Felipe. Per quanto riguarda Cone, da rigenerare. Iacchini ci prova, dandogli un compito chiave, quello di creare un tridente d'attacco, spostandosi dalla posizione di intermedio a quella di punta esterna. La ruggine, dopo un anno tra infortuni e panchina, non manca. L'importante è cancellarla in fretta. E ancora un volto nuovo de Paul interessante. Il talento c'è, la nicchia tattica pure potrebbe essere il secondo trequartista, quando Iacchini decide di rinunciare al regista per trasformare il 3-5-2 in un 3-4-2-1. Ha idee e piede. E ancora, andiamo a vedere anche Fofanà, il nostro polipo, dice Oleotto, confessione di una passione nata, vedendolo giocare l'anno scorso d'avversario contro l'udinese di Colantuono. Ora è qui, in bianco-nero, è una mezzala che può centrarsi quando si gioca a quattro, recupera e riparte, con qualità, quella che a volte manca al vecchio Badu. E poi, terò punzecchiato, le voci di mercato gli fanno bene, dice il messaggero, perché fondamentalmente è un orgoglioso, capace di ritagliarsi una carriera di alto livello, partendo dal basso. E ancora, una vecchia conoscenza bianco-nera, Alfredson Mistero, scrive il messaggero Veneto, un europeo da comparsa dopo una stagione da tragedia. A 32 anni ha già le batterie scariche, il nostro geyser Iachini lo sta provando anche da regista per dargli una chance. Questi i commenti di Oleotto, le prime valutazioni dei giocatori bianco-neri che stanno per concludere la seconda fase del ritiro in Austria. Ancora qualche giorno, poi mercoledì si ritorna a casa, si ritorna a Udine, perché c'è una gara importante, un amichevole importante alla Dacia Arena contro il Middlesbrough. Mercoledì si torna a casa, dice questo trafiletto che ci riepiloga il programma dei bianco-neri in questi giorni. Stanno per terminare le fatiche austriache dell'Udinese, che farà ritorno in Friuli martedì sera, subito dopo l'ultima delle amichevoli programmate in Carinzia. I bianco-neri infatti affronteranno il 2 agosto alle 18 la squadra araba dell'Alilal sul campo di Gmund, ma niente rompette le righe dopo il rientro a Udine per i calciatori di Iachini che giocheranno anche mercoledì alle 20.30 allo Stadio Friuli d'Aciarena, un test di livello. L'avversario, come abbiamo detto, sarà il Middlesbrough squadra inglese di Premier League. E continuiamo l'analisi di questa pagina del Messaggero Veneto con l'articolo che troviamo nel taglio basso che fa il punto sugli abbonamenti in crescita con l'Udinese. Ai tifosi piace il modo di proporre il cocktail vecchi giovani nella testa di Iachini. È un Udinese che inizia a piacere. Quella targata Iachini, i tifosi bianco-neri sono ancora un po' scettici, ma molto meno rispetto a un paio di settimane fa. A dare la spinta positiva sono stati sicuramente gli arrivi di De Paul, che piace molto un po' a tutti, e di Pegna Randa, che sono molto curiosi di vedere all'opera. E poi il dato, l'aggiornamento sugli abbonamenti. La risposta più eloquente, i tifosi bianco-neri l'hanno già data attraverso la campagna abbonamenti. I dati non sono ancora ufficiali, ma al termine della fase di rinnovo per i vecchi abbonati i numeri sembrano essere positivi, e di poco lontani dalla quota della scorsa stagione, poco più di 10.200 tessere. Ora la palla passa alla sottoscrizione libera, che è partita il 29 e che terminerà il 12 agosto. Voltiamo pagina adesso, andiamo nella pagina accanto e vediamo qualche altra novità che riguarda l'area tecnica, ma anche lo staff medico dell'Udinese. C'è il coordinatore. L'Udinese seguirà il modello Juventus. Il DS Bonato sarà affiancato da fattori per monitorare i giovani ceduti in prestito nelle categorie inferiori in Italia. L'ex responsabile del Vivaio Sassuolo lascerà a Carnevale il compito di osservare la scena all'estero. C'è un ulteriore indizio a conferma della ritrovata attenzione dell'Udinese per i giovani talenti. Arriva dall'inserimento di una nuova figura nell'organigramma dello scouting, settore cardine della società bianconera, diventato col tempo anche materia di studio per la concorrenza. Ebbene, dall'inizio della nuova stagione l'Udinese ha istituito la presenza di un coordinatore che seguirà tutti i giovani ceduti in prestito in Italia. Il ruolo è stato affidato a Stefano Fattori, lo ricordiamo con le maglie di Piacenza e Torino, tra le altre, classe 1972, che fino allo scorso maggio era responsabile del settore giovanile del Sassuolo. Ed è stata proprio la conoscenza maturata in sei anni di lavoro in Emilia con il DS Nereo Bonato ad indirizzare la scelta di Gino Pozzo, deciso a migliorare il team scouting con l'inserimento di una figura di riferimento per i propri tesserati sparsi in Italia. E poi ancora, dicevamo delle novità anche nello staff medico, andiamo nel taglio basso, Passelli torna in bianco-nero, sala lui il responsabile sanitario. Udinese sul mercato non solo per i giocatori, ma anche per lo staff medico, che è stato rinnovato nel corso dell'ultimo mese. A dare lo slancio ai cambiamenti, anche in questo settore, è stata la partenza per Torino del responsabile sanitario Fabio Tenore. La società friulana ha trovato un nuovo responsabile medico, cercando nel passato. Si tratta infatti, come abbiamo letto nel titolo, di Aldo Passelli, che ha lavorato con l'Udinese per 13 stagioni, lasciando la società nel 2010. E poi ovviamente anche un po' di mercato calciatori, in primo piano vediamo questo articolo che parla un po' delle trattative in corso, anche da parte delle altre squadre. Per quanto riguarda l'Udinese, è Fernandes il nome, l'uomo mercato, diciamo così, Fernandes voluto dalla Samp, Soriano al Villareale, la Samp vuole Fernandes, offerti a Pozzo, 7 milioni più 2 di bonus per il portoghese che giocherà le Olimpiadi. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, noi ci limitiamo a leggere e riferirvi, riportarvi quanto raccontano i giornali. Chiudiamo questa pagina del Messaggero Veneto e andiamo a vedere il gazzettino, vediamo cosa ci racconta oggi il gazzettino della nostra Udinese. Questo è il titolo, L'area austriaca è magica per la squadra di Iachini. A Bad Bleiberg la Rosa lavora sodo e con grande profitto. Sinora si sono messi in evidenza Matos, il neo arrivato De Paul, Danilo e Conè. Anche il gazzettino dunque fa un bilancio di questa seconda fase di ritiro precampionato in Austria. Da migliorare, dice il gazzettino, il possesso della palla. Andiamo a leggere anche le prime righe dell'articolo di Guido Gomirato. L'area austriaca di Bad Bleiberg ha effetti tonificanti per i bianconeri. C'è disponibilità al sacrificio, all'apprendimento, alla voglia di migliorarsi e per Beppe Iachini non è necessario confrontarsi a muso duro con eventuali lavativi. Tutti pedalano in un'unica direzione. Il tecnico, che piace ai tifosi, pur essendo stato accolto con scetticismo al suo arrivo a Udine, è considerato una specie di fratello maggiore ed è seguito in tutto e per tutto. L'udinese cresce, questo è il dato più significativo emerso non solo nel ritiro carenziano, ma sin dal primo giorno di lavoro. Il 4 luglio ha preso il via la stagione, mentalmente sembra rinata rispetto alla passata stagione, in particolare rispetto al periodo gennaio-maggio. Queste le considerazioni del gazzettino che poi ricorda di spalla il compleanno di Felipe, Felipe che compie 34 anni, ormai il Friuli è casa sua. Felipe, buon compleanno, scrive il gazzettino. E anche noi ci aggiungiamo agli auguri all'italo-brasiliano che compie appunto 34 anni, ben 12 dei quali vissuti in bianco-nero. E ancora sempre sul gazzettino andiamo a leggere anche il titolo dell'articolo che ricapitola le trattative di mercato. La società dice, l'udinese dice, niente sconti per Terò, Marsiglia dovrà rilanciare e la Samp che vuole Fernandes. quindi Fernandes, Terò e Zielinski un po' al centro del mercato secondo il gazzettino. Rimaniamo sul gazzettino e continuiamo a parlare di calcio perché oggi è il giorno della prima partita ufficiale di questa stagione per il Pordenone impegnato in Coppa Italia. Ramarri pronti per la sfida. Stasera al Bottecchia la partita secca contro il Grosseto. Squadra di serie di mister Tedino. Nel periodo di preparazione la differenza di categoria non conta. Mette in guardia quindi i suoi mister Tedino. Leggiamo le prime righe dell'articolo di Dario Perosa. VAMOS è stata l'esclamazione più ricorrente sui rettangoli dell'europeo fino alla fine quando CR7 ha alzato la Coppa celebrando il successo del suo Portogallo. Usiamola anche noi perché sia di buon auspicio al Pordenone che oggi inizia la sua nuova stagione. VAMOS Ramarri alle 20.30. Dunque il fischio d'inizio di questa prima gara di Coppa Italia per il Pordenone che potrà contare anche su Burrai perché la squalifica del giocatore o meglio il giocatore sconterà la squalifica nella prima gara di Coppa di Lega Pro. Infatti il gazzettino scrive il regalo della federazione che ha sdoganato Burrai e anche Suciu che partirà dalla panchina. Burrai graziato. Anche il messaggero Veneto ovviamente parla di questa sfida importante. Ecco il titolo si apre la stagione Pordenone c'è il grosseto. Primo obiettivo la Ternana che sarebbe il prossimo avversario del Pordenone in caso di passaggio del turno. Squadra carica per la prima stagionale al Bottecchia con una rivale morbida. I Ramarri già sognano la trasferta in Umbria e la successiva sfida con il Cesena. Anche in questo caso dobbiamo leggere le prime righe si spengono i semafori e si comincia a fare sul serio. Questa sera al Bottecchia fischio d'inizio alle 20.30 parte ufficialmente la stagione 2016-2017 del Pordenone con il primo turno di Team Cup il più prestigioso torneo nazionale. E mister Tedino dice ci teniamo a passare e a cominciare bene via con il Super Tridente composto da Arma Berrettoni e Pietri Biasi. Questo per quanto riguarda il Pordenone rimaniamo sul Messaggero Veneto e andiamo a parlare di basket vediamo quali sono le ultime novità in casa GSA c'è un'intervista a coach Lardo che dice è importante la conferma dei sette decimi dei giocatori dell'anno scorso Lardo e le tre carte da calare sul tavolo lavorerò sulla testa il coach della GSA parla dei nuovi Laser, Delegal e Cuccarolo importante appunto la conferma dei sette decimi dello scorso anno la nuova APU GSA di Lino Lardo è al completo ai sette conquistadores della passata stagione si sono aggiunti tre giocatori i due americani l'esperto d'Europa Laser, il cui numero di maglia sarà il 10 e l'apprendista è di Delegal e la torre italiana Gino Cuccarolo il coach Ligure è stato uno dei massimi promotori di questa campagna acquisti e di ritorno da una settimana di villeggiatura in montagna ci spiega che tipo di squadra avrà Udine dal 17 agosto in poi e vi lascio leggere l'intervista appunto per scoprire come sarà la GSA 2016-2017 il coach sottolinea anche la spinta dei tifosi lo zoccolo duro di abbonati può darci la consapevolezza di essere seguiti da molta gente che promettiamo di non deludere al momento sono 238 i sostenitori della GSA che hanno sottoscritto l'abbonamento numeri comunque importanti anche se ben lontani da quelli che sta realizzando Trieste inarrivabile scrive il messaggero Veneto a Trieste sono già state sottoscritte 1027 tessere in un mese c'è tempo comunque per sottoscrivere i nuovi abbonamenti della GSA mentre vediamo anche la foto di laser che indica il numero di maglia con il quale giocherà a Udine il numero 10 chiudiamo adesso questa pagina del messaggero Veneto e spostiamo la nostra attenzione sulle prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo a vedere cosa ci racconta oggi la gazzetta in primo piano ancora Icardi uomo mercato al centro di una trattativa fra Inter e Napoli follie per Icardi il Napoli sale a 70 milioni per far vacillare l'Inter ma il muro per ora resiste scrive la gazzetta che poi sempre per quanto riguarda l'Inter ritorna sulla situazione di Mancini Mancini che ha tre giorni per un sì convinto o sarà caos era atteso un incontro tra Mancini e Toiri incontro che non c'è ancora stato e quindi continuano le voci sui malumori dell'allenatore dell'Inter a questo proposito c'è il commento di Gianni Valenti che dice sul tecnico bisogna decidere il confronto a distanza tra Roberto Mancini e l'Inter è come una telenovela ogni giorno una puntata diversa tutte a dir la verità un po' noiose di certo c'è che il finale della trama rimane ancora da scrivere andiamo nel taglio alto adesso parliamo di Milan perché c'è un'intervista oggi sulla gazzetta a Niang al nuovo Niang titola così oggi il quotidiano rosa ora basta cavolate Milan fidati di me queste le parole del giocatore rossonero che dice con Montella voleremo mi stima e io ho bisogno di sentirmi importante il tuffo dal tetto non pensate che sia scemo il tuffo dal tetto una foto con Niang che si tuffava dal tetto della propria casa in una piscina e che ha fatto il giro dei social trattative di mercato in primo piano anche per quanto riguarda il Milan per quanto riguarda la cessione del Milan proprio altro rinvio preliminare a fine agosto i dubbi aumentano trattativa in stallo ma cinesi e rossoneri si dicono tranquilli andiamo a vedere adesso di spalla alcune notizie che riguardano le altre squadre di serie A andiamo a Torino in casa Juve Benassia Bomber in più con l'amico Pjanic in regia i due decisivi anche a Hong Kong e per il dopo Pogba Witzel preme intanto Matic è tentato ma è più difficile scendiamo un ciolito per il Genoa preso il figlio di Simeone in casa Roma subito K.O. il neo acquisto Mario Rui il ginocchio fa crack adesso la Roma punta Darmian andiamo a vedere anche qualche notizia che ci arriva dall'estero Conte è un'estate dura l'amichevole fra Real Chelsea finisce 3 a 2 e Ibrahimovic rovesciata show in amichevole una rovesciata per Murigno ha detto l'attaccante Zenga in Inghilterra con il Wolverhampton gli auguri di Murigno e poi vediamo prove tecniche di A la Samp batte il Chievo e prende Fernandez questo scrive la gazzetta ma come abbiamo detto prima non c'è ancora nulla di ufficiale si parla molto anche dei giochi olimpici di Rio perché ormai ci siamo meno 5 ci ricorda la gazzetta dello sport che oggi propone un'intervista a Aldo Montano oro nella sciabola ad Atene Montano e i giochi quell'aria di casa se sto tranquillo posso vincere ancora il segreto è quello gli stra favoriti salgono in pedana con difficoltà e poi ancora la formula 1 perché anzi sempre per quanto riguarda le olimpiadi vediamo anche l'analisi di Fausto Narducci che ci dice che il totomedaglie non ci sorride a 5 giorni dalla cerimonia d'apertura dei giochi è difficile sottrarsi alla tentazione del totomedaglie olimpiche gioco stimolante ma pericoloso perché appunto il totomedaglie non ci sorride dicevamo che oggi si corre il gran premio di Formula 1 della Germania a Hockenheim buona prestazione di Rosberg che appunto scalda Hockenheim Vettel no sesto e più lento di Kimi solo terza fila dunque per la Ferrari e chiudiamo l'analisi della prima pagina della Gazzetta dello Sport con il consueto rompipallone di Gene Gnocchi de Laurentiis e Higuain hanno aderito alla giornata mondiale dell'amicizia per quasi un minuto non si sono insultati andiamo a vedere anche qualche altra prima pagina andiamo sulla prima pagina di Tutto Sport Tutto Sport che guarda in casa Juve al nuovo asso croato piazza nuovo KK scrive Tutto Sport punta esterno trequartista artista d'attacco al Milan avrebbe preso il doppio ma qui vince dice il procuratore del giocatore croato dal Tutto Sport andiamo adesso anche sul corriere dello Sport ecco il titolo di apertura Icardi in primo piano strappo Icardi il braccio di ferro con l'Inter non si arresta l'argentino denuncia problemi alla spalla Mancini con il Bayern lo porta in panchina azzurri pronti all'assalto c'è anche l'Arsenal e il Napoli appunto è arrivato a 60 milioni ancora vediamo nel taglio alto Juve ora tela giochi con Real e Barcellona con l'arrivo di Guain Allegri a il quarto attacco della Champions e una giuria di esperti posiziona i bianconeri tra le prime quattro d'Europa e con la prima pagina del Corriere dello Sport noi chiudiamo anche la nostra rassegna stampa sportiva io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi invito a rimanere in nostra compagnia buona giornata e buona domenica a tutti voi a a a a a a